ciao luca buongiorno e ciao a tutti come potete vedere mi trovo ad assen al circuito di assen per la gara di superbike dove abbiamo portato il nostro pilota davide conte e domenica andrà a disputare la prima sua gara di mondiale superbike con la kawasaki 300 ciao ragazzi ora siamo qua pronti per il warm up ieri grandissimo passo avanti in gara è stato proprio due cosine abbiamo aggiustato stiamo ovviamente conoscendo bene la pista e e quindi stato fatto un grandissimo passo avanti da ieri mattina a ieri pomeriggio infatti sono molto contento stamattina abbiamo delle nuove cose da provare devo ancora fare un bel po di adattamento alla moto e alla pista quindi man mano che andiamo avanti stiamo togliendo secondi come se non finissero mai e quindi quindi bene dai siamo pronti per questo warm up ciao ragazzi un saluto un saluto a tutti un saluto a tutti